Sono stati ritrovati, dopo 12 ore di incessanti ricerche da parte dei carabinieri, i tre grandi camion, di cui uno con una gru incorporata, rubati da uno stabilimento di movimento terre di una ditta di Pieve Santo Stefano. Il furto risale infatti alla notte tra martedì e mercoledì, quando i ladri erano riusciti a portare via i mezzi, oltre a diversi litri di casolio per autotrazione, insomma un danno che ammontava a mezzo milione di euro. I militari dopo la denuncia si erano subito messi sulle tracce dei mezzi ad aiutare nell'impresa questa volta il sistema GPS montato su uno dei veicoli rubati che però nel corso dell'intera giornata non aveva dato alcun segnale, probabilmente infatti gli autori del furto avevano attivato un disturbatore di segnali. I carabinieri hanno così passato al setaccio tutte le telecamere, iniziando da quelle posizionate sulle possibili vie di fuga, la E45 e l'autostrada adriatica A14. Proprio in quest'ultimo tratto di strada, nelle ore successive al furto, erano passati diversi veicoli pesanti che potevano corrispondere a quelli cercati. Da qui la traccia che li ha portati nei pressi di Andria. Contattati i colleghi pugliesi, anche loro si sono immediatamente messi alla ricerca dei camion. Infine la svolta, per qualche istante un lieve segnale del sistema GPS è arrivato alla centrale, tanto quel che bastava per avere una zona di ricerca meno ampia. I tre veicoli sono stati così trovati in un campo agricolo abbandonato nelle campagne incolte e ben nascosti dietro un grosso capannone industriale che confinava con quel terreno a soli 10 minuti dal porto più vicino.